Se fossi una città è il tema scelto per la sesta edizione di Meno Alti dei Pinguini, il festival dedicato all'infanzia in programma da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, che proporrà anche quest'anno un ricco calendario di iniziative per bambini, genitori ed educatori. Io mi occuperò dell'organizzazione, quindi non sarò sul palcoscene come sarò dietro le quinte e sono ben lieto perché il programma è veramente ricco, ci saranno un sacco di stimoli. La cosa bella dell'organizzazione è che ti permette anche qualcosa di riuscire a vederla e di avere il ruolo anche di spettatore e uditore rispetto invece a quando sei sul palco che non te la godi bene, la stai vivendo te. L'intero centro storico verrà invaso dall'evento e gli stessi commercianti diventeranno parte integrante del festival in qualità di amici dei pinguini con l'esposizione nelle loro vetrine dei pinguini in ceramica.